Si potrà presentare la candidatura entro le ore 13 di domani 5 agosto per rispondere all'avviso pubblico in merito alla presentazione della manifestazione di interesse rivolta alle associazioni enti culturali che intendono partecipare alla redazione del dossier necessario per la partecipazione della città al bando per il conferimento per l'anno 2023 del titolo di Capitale Italiana del Libro. Tra gli obiettivi una maggiore diffusione dell'abitudine alla lettura e un aumento del numero dei lettori nonché il miglioramento dell'offerta culturale, inclusione sociale e contrasto alla povertà educativa. Nell'avviso vengono indicati anche i requisiti di partecipazione per la selezione degli operatori culturali idonei al ruolo di collaboratore alla redazione del dossier. Potranno presentare la candidatura alle associazioni culturali o enti scritti nei registri nazionali o regionali o analoghi elenchi sempre regionali o nazionali o ancora enti riconosciuti dalle confessioni religiose con almeno un anno di esperienza maturata nel settore oggetto di interesse.